In questi due anni di inflazione record, i conti correnti delle famiglie del Friuli Venezia Giulia subiranno una sforbiciata da 3,6 miliardi di euro. Come si è giunti a questo risultato? In primo luogo, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, si è ipotizzato che i 25 miliardi di euro presenti nei conti correnti bancari della nostra regione non abbiano registrato alcuna variazione nell'arco temporale preso in considerazione. In secondo luogo, a seguito dell'aumento dei prezzi attorno al 14% che subiremo nel biennio tra il 2022 e il 2023, si è calcolata la perdita di potere d'acquisto sui risparmi. L'esito emerso dall'elaborazione è spaventoso, secondo l'Associazione degli Artigiani Mestrina. Praticamente ci troviamo di fronte ad una patrimoniale da 3,6 miliardi di euro che a ogni singolo nucleo familiare del Friuli Venezia Giulia costerà mediamente 6.404 euro. La media nazionale è di 6.338 euro. A livello territoriale, sempre nel biennio preso in considerazione, il costo medio più salato lo subiranno le famiglie residenti a Pordenone, con un prelievo medio di 6.759 euro, seguiti da quelli di Udine con 6.660, Trieste con 5.823 e Gorizia con 5.784. Con i depositi bancari remunerati a tasso zero, per cui il loro valore reale è diminuito in misura pari all'impennata dell'inflazione, il costo per le famiglie del Friuli Venezia Giulia sarà di oltre 6.400 euro, una patrimoniale 31 volte superiore al prelievo sui conti correnti introdotto nel 1992 dal governo Amato. È urgente intervenire subito, la perdita di potere d'acquisto sta impoverendo tutti, in particolar modo i citi medio-bassi.